Ehi la, Dani fan! Vi è mai successo di non riuscire a togliervi dalla testa qualcosa? Magari la scena di un film, un titolo sbirciato su un giornale o il dettagliato risoponto di un'amica sul suo trattificante primo appuntamento? Nel mio caso è l'Underground. Chi sono? Cosa voglio? Domande semplici? Ma trovare delle risposte si sta rivelando a dir poco frustrati. Rubano, aggrediscono, rapiscono, molestano. Non fanno distinzione tra bande criminali e attività oneste. Dispongono di tecnologie all'avanguardia e sembrano odiare i nostri. Continuerò a indagare. E se avete qualche dritta, scrivetemi. Alla prossima! E gettate i fondi di caffè nella spazzatura se non volete che vi intasino alla grande lo scarico. Ok, ciao! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Ehi, Lumaca! Quassù! La scala antincendio è un po' traballante. Attenzione! Ah, ho capito. Ecco perché ci vediamo qui. Volevo darti buca, ci hai messo troppo. Aiutami, è bloccata. La capsula ha visto giorni migliori. Ricordi la combinazione? Sì, eh... Cavolo, eh... Ma come? Dovete imparare il codice a memoria. Non sarò sempre qui ad aiutarvi. Lo impareremo, tranquillo. Lo impareremo, sì, sì. Certo. Allora, sapete già cosa metterci dentro? Capsula segreta. Lo sappiamo solo noi due. Ah, giusto. La prudenza non è mai troppa. Ehi, Rick. Pensi di accettare il lavoro alla Roxon? Perché? Altrimenti lo vuoi tu? Forse. Dipende dall'offerta. Ok, sei ambizioso, eh? Beh, la proposta è allettante. Vogliono affidarmi le energie pulite. E mi conosci. L'energia pulita salverà il mondo! Adoro i miei piccoli nerd. Oh, parli del diavolo la Roxon. Torno subito. Ricordi il codice, vero? La sequenza di Fibonacci. Bene. Il nostro premio. Beh, del resto il nostro convertitore spaccava. Vero. Secondo te è ancora esposto al museo? Lo spero. Wow. Guardaci. Che due imbranati. Rick è sempre perfetto, invece. Già. È successo qualcosa? Cos'è? Avete litigato? No. Nessuna lite. Finn... È tutto ok. Perché ci siamo allontanati? Cavolo, è tardi. Devo andare. Ehi. Sento che ci stiamo nascondendo qualcosa. La prossima volta, niente segreti. Ok. Ok. Forse. Se sarai puntuale. Ci sentiamo, piccoletto. Lo sai che sono cresciuto, vero? Non qui dentro. Il diploma delle medie fu un'esperienza agrodolce. Finn andò alla Midtown High. Io alla Brooklyn Visions. Ci terremo in contatto, pensavamo, ma... Il liceo è tutto un altro mondo. Cavolo. È stato bello rivedere Finn. Potrei cercare anche le altre capsule del tempo. Ma più tardi, devo tornare per il comizio di mamma. Per fortuna ho il mio abbonamento della metro. Telefono? C'è. Tessera metro? C'è. Le chiavi di casa? Sì, le ho. Forza! Faremo tardi! Ehi! Bello, ora ti riempio il costume di neve. Lui è ancora addosso? Sì. Per sicurezza. Andrà tutto bene. È per questo che adoro vivere ad Arlen. Venti improvvisati, il miglior cibo in città, musica da paura. Sì, è proprio figo. Che idea ti sei fatto di Rio Morales? La voterai? È strano pensare a mamma in politica. Per me è sempre stata solo un'insegnante. L'attitudine è la stessa, no? Riunire persone, educarle, fare in modo che non si prendano a sassate tra di loro. No, siamo andati. Credo che sto possedendo su qua. Ok, mi puoi aiutare? Ora prendo due pastellini e un caffè d'acqua. Esatto. Ti preoccupi tra. Sì, ok, buona idea. Non vedo l'ora di sentire il tuo discorso. No, anch'io, ok. Ti senti che... Sisto, devo parlare. Oh, 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 oh. Ehi, facciamoci un hot dog. Buona fortuna, signora. Grazie, Tim. Guarda, la Rockson non smette un attimo di vigilare, eh? Tanto pare. Buenas noches, vecinos. Ricordate cosa abbiamo perso quando la Rockson ha demolito il quartiere? Ehi, è tutto ok? Lo ricordo io. Sì, è solo... Lì c'era la gelateria Paolo, che preparava il miglior gelato artigianale di New York City. E l'asilo Junipero, dove molti di noi sono cresciuti. Sua madre è protetta dalla sua gente. La chiesa di Santa Teresa, dove il coro donava la sua musica al quartiere ogni domenica e mercoledì. Sì. Anche ora, la Rockson sta inondando l'intera città con il Luform, un carburante sperimentale, senza spiegarci i suoi rischi. Questo è il santo per la Rockson. L'uomo a cui è benedita. Simon Kree è un assassino. Questo edificio è un monumento a tutti i crimini che ha commesso. Non permetterà che aprile. L'Underground lo fermerà. Qui abbiamo un problema. Fermi! Mantenete la calma! Non puoi scappare! Puntare! Tu pensa a loro. Io aiuto tua mamma. Indietro! Non scherzo! Non puoi scappare! Non puoi scappare! Te l'aiuto io. Andiamo! Disparare il cuore solo per il piede di una Rockson! Non metterti di mezzo, Spiderman! 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 Siete al comizio sbagliato! Siete al comizio sbagliato! Siete al comizio sbagliato! Siete al comizio sbagliato! Buona idea! Sì, Gettu! Grazie di tutto! E non la bella! Al diavolo voi e le vostre lucide! Siete al comizio! Siete al comizio sbagliato! Siete al comizio sbagliato! Miles! Grazie a Dio! Dove sei? Sono a casa! Ma posso raggiungerti in ospedale? No! Resta al sicuro! Ma sei ferita! E se ti capitasse qualcosa mentre non ci sono? Mio! Stavolta è diversa! Stiamo tutti bene! Resta al sicuro! Ghiades! Quando torno, ti faccio chiamare il riso! Ok, ma... No svemosi in casa! Te chiedo! Miles! Ho visto cos'è successo al comizio! Fai bene! Dove ti trovi? Vado al Brakeweight Bridge! C'è stata un'esplosione! Ok! Ma se arriva la Rolson, scappa! Capito? Cercheranno qualcuno a cui scaricare la rospa e non si accontenteranno di chiedere! Ok! Terrò gli occhi aperti! L'esplosione è stata enorme! Devo sbrigarmi! L'attacco al Plaza era solo l'inizio! O un diversivo! Vai! Vai! Non ammazziamoci tra noi, ok? Ci interessa il Nuform! Ignorate il resto! Sbarazzatevele e prendete tutto quello che potete! Che stai facendo? No! No! destabilizza. A terra! Trattenetelo. La faccio saltare il camion! Smyth, ho visto l'esplosione! Tutto ok? Io sto bene, ma... Hai visto? Pinker è... In! Cigarino. L'ho incontrata oggi! Se solo... Se solo avessi capito prima! Non è colpa tua. Ero così felice di vederla... Da rifiutare la verità. Devo stare più attento. E resta giù! Un ponte crollerà! Devo fare qualcosa! Esplosione è stata colpa tua! Non erano i nostri piani! Dobbiamo scappare ora! Siamo migliori! Amanditi! Non hai bravi! Se sente intrappolata! Devo liquidarli e aiutare quelle persone! Provo! Non erano i nostri unici! Sì! Oh, mio dio! Oh, mio dio! L'autobus! Aiutati! Forza, uscite! Tutti quanti fuori! Tranquillo, detengo io! Grazie, mio dio! Quella gente è in trappola! Mi è venuta un'idea! Doi, doi, doi! Serve qualcosa che faccio dopo me! No! 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 Andiamo! No, no, no! Smidermen! Grazie. Fatto. È colpa mia. I miei moteri sono devastanti. Stanno tutti bene. Dopo l'esplosione il ponte ha iniziato a... Abbiamo l'altro Spider-Man a tiro. Attendo ordini. Che succede? Non ne ho idea. Roger. No. No, non sono un nemico. Che cosa state facendo? Ci ha salvato. Lasciatelo stare. Ti sto riprendendo. Siamo vicino. Ehi, metta via il telefono. Ho detto di metterlo via. Ora! Ehi, non la toccare. Andassevene. Ultimo avvertimento. Spider-Man ha salvato. Ma cosa? Dove è finito? Oh mio, di fatto. Lo hanno spinto. Che è successo? Dobbiamo aiutarlo. Oh. la roxon non prometteva energia alle persone pallotto le altro che energia non mi hanno neanche ascoltato stai bene non lo so oggi abbiamo ospite simon kreger per parlare di quanto accaduto al breakaway bridge dunque a me il nuovo spider-man sta anche simpatico ma la sua come chiamarla bioelettricità ha danneggiato gravemente delle proprietà della roxon e anche distrutto il ponte sono tutte balle non è andata così fine tinkerer ha rubato il nu form non so il perché il ponte è crollato per colpa mia no non è vero vado alla sede del comitato elettorale volete che vi prenda qualcosa posso portarvi del dulce de coco ma non molli dopo ieri sera perché dovrei ho promesso di proteggere il quartiere e lo farò potevi potevi morire la nostra famiglia non si arrende e lo sai mamma il dulce de coco mi andrebbe se non ti dispiace non mi dispiace con i miei poteri pensavo di poter risolvere qualsiasi cosa fare tutto ciò che fa spider-man quando parli di spider-man intendi sempre l'altro tu sei spider-man troverai un modo il tuo modo non mi dispiace non mi dispiace non mi dispiace non mi dispiace sì ciao new york amico mio la situazione sembra seria in questi tempi l'amichevole app è più utile che mai Ci serve un nome più breve. Le app migliori hanno nomi di una parola.